USSR era un provino, Freddie ha detto questo è una hit, Tom, ho cantato il provino, l'abbiamo scritto in un pomeriggio con USSR, ha detto Tom non lo può fare, abbiamo chiamato Eddie Huntington, l'abbiamo fatto cantare, era un disastro, Mickey ha lavorato una settimana per farlo cantare una canzone di tre minuti, non avevamo l'autotune, però ha campionato la voce e col bender lo metteva intonato e poi ritmicamente lo ralentava per metterlo a tempo perché non sapeva cantare Eddie Huntington, chiaramente adesso abbiamo avuto un successo in Germania, tutto ha fatto il festival bar, ma la cosa strana è che quando su Facebook dicono Eddie mi piace la tua canzone USSR, lui non dice sì grazie, la canzone è stata scritta da Michiki Regato, dicono ah ti piace, grazie, thank you, cioè nell'arte Pablo e Picasso dicono ah bello, nice to work, ma nel mondo della canzone prende tutto, sì, dicono I love your song, ma non dicono, invece io sono andato a sentire un concerto di James Taylor che lui è un autore, un cantautore, nel concerto diceva this is a song written by Carol King e ha cantato il you got a friend, cioè io e quello che volevo da denaro che andassi sul palco a prendere i soldi con la mia voce sulle base che dicesse soltanto grazie, questa è una canzone composta da Michiki Regato e scritta da Tom Hooker, tanto lo sapete perché l'ha dichiarato due o tre anni fa fa ancora le serate, perché ci sono video su youtube dove lui quando c'è Don't break my heart la parte you and me make a team, I want you near me every day, lui smette di cantare e fa e poi quando c'è memories of that desire, su su con le mani, allora sì, allora ci va, però quando c'è la parte da cantare, stai sì. Complimenti, un bel lavoro anche per lei, se inserito il momento giusto? Allora, una domanda per Jonathan, insomma, come ti sembra ecco che sia stata recepita questa prima visione in Italia, insomma, che appunto ha presentato anche una parte della nostra musica, della nostra, e se hai ancora l'interesse a magari esplorare certi aspetti della sensibilità e dello stile italiano dopo questo documentario. I think the fact that it's Italian was kind of arbitrary going in, it was just a, an opportunity to, you know, explore this pop project, which is at once the sum of its constituent parts, you know, there's Tarati, Kirigato, Tom Hooker, Seven of Zandri, which is true. The dons of disco. Sure, the dons of disco, but in working through the footage, there's another quality, which is the relationship between an artist and a fan, and that's something that I don't think you can recreate. I think it's something that exists in a certain moment and you can't recapture that. So I think there's a reality to, you know, being the artist who is responsible for a pop song's success, but there's also a reality to just the eventuality of fans and stardom, and I don't think you can skip that. Yeah, you demonstrated it well in the documentary. He demonstrated it well in the documentary. When there's a German fan, he's going, yeah, Denaro, I love you. And he's singing, and obviously, of course, I hear it's not the same voice, but yeah, they're going, yeah, Future Brain, yeah, you know, and that's the fan. And then, of course, Alex Goode, the other guy who is a fan, that was really cute. Jonathan says that it was very important for him to explore these four people, which he had a tour of Stemona Zandri and Tomuk, and he was involved in the project Denaro, but in the documentary he has also understood the importance of the singer and fan, of the responsibility that the singer has in front of his fans, and the responsibility that comes from the fame, of being famous. One of the most interesting things is that now the stars are a level international level, now the world is global. Here we are still in an epoch pre MTV. Now, all the world MTV is listening to the same music in all five countries. All'epoca, l'Europa, aveva comunque un suo stile e un suo mercato diverso rispetto, e soprattutto, una cosa che secondo me si coglie ed è molto riuscita in questo documentario, è la grande ingenuità che c'era soltanto 30 anni fa. Oggi, appunto, con internet, forse anche perché conosciamo meglio l'inglese tutti, ci saremo accorti di questa operazione o del playback o della musica live. All'epoca il pubblico era più ingenuo e voleva ancora credere alle favore, in un certo senso. Hai cambiato tutto per colpa dei social, per esempio se dici che hai fatto un telefilm con Lorenzo Lamas puoi andare a verificare che non è vero. E io direi che tutta la nostra diatriba è cominciata col Facebook, se non c'era Facebook non succedeva niente. Io stavo a Las Vegas tranquillo, lui stavo lì, perché non leggevo le cose che diceva su di me. Grazie. Jonathan, congratulations, you did a great job. Thank you. Yeah, I mean, I'm just thrilled that I was able to premiere the film in Italy, to be able to show it for people who were actually familiar with Den Haro. It's an entirely different film for you guys than it is for people. I'm screening it in Arkansas in a few days and they're not going to have any context. So I think that it's really just a special circumstance to be able to play it here. I'm very happy that the World premiere was made in Italy, in Rome. In a few days, the film will be in a festival in Arkansas. And obviously there, the audience will not have that historical and musical context that there is in Italy. So I'm happy that the Festival of the Cinema in Rome have accepted this film. Allora, in attesa appunto di andare avanti con il festival di cui qui siamo un'anteprima e di vedervi appunto al Parco della Musica nei prossimi giorni, un grande applauso anche per Silvio che ha aiutato a prodotto il progetto in Italia come live producer. E soprattutto salutiamo anche Tom e salutiamo Jonathan, il primo regista di questa edizione della Festa del Cinema di Roma. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi giorni sempre al cinema.